Ciao a tutti, come vedete quest'anno ho fatto l'albero alternativo ho provato a farlo, l'ho visto su internet, su varie foto ma non ho mai visto come si faceva e ho provato a farlo da sola e mi sembra che ci sia un risultato buono almeno, deve essere ancora finito mancano delle lucine, mancano dei ritocchi, ma non mi sembra niente male, cosa ne dite voi? ok, intanto vi faccio vedere come ho fatto a farlo allora, diciamo che i bastoncini sono 11 e partiamo da 1 metro e 10 a scalare e la distanza che c'è in altezza è 10 centimetri poi ho legato, vedete, partendo dal basso questi 10 centimetri a 1 a 1 vedete? legato sopra e sotto con un nodo fino in alto prima da una parte l'ho fatto fino in alto e poi sono venuta giù dall'altra parte il risultato mi sembra buono per il momento intanto adesso metto le luci come finale ha fatto anche una stella in alto e poi vediamo il risultato e poi vediamo il risultato